Buonasera, ben ritrovate telespettatrici e ben ritrovati telespettatori di Telesardegna. Il nostro primo appuntamento post-elettorale dopo la lunghissima campagna elettorale che abbiamo seguito con tre appuntamenti settimanali e poi con la lunghissima non-stop dalla quale ci siamo appena ripresi del 26 febbraio, nella quale abbiamo cercato di farvi compagnia e di raccontarvi in diretta cosa stava accadendo. Oggi ripartiamo e ripartiamo dal centro della notizia. Abbiamo con noi la presidente eletta Alessandra Todde. Buonasera e ben ritrovata. Grazie per l'ospitalità. In questi studi abbiamo raccontato la campagna elettorale, anche lei è stata diverse volte protagonista, dunque non possiamo dire che i nostri telespettatori o noi non sappiamo quali siano state le motivazioni che l'avevano portata a candidarsi e quali fossero soprattutto i capisaldi del suo programma. Dunque salterei questa prima parte e partirei invece dal post-elezioni. Sono stati dieci giorni molto importanti, anche con qualche piccola polemicuccia sugli esiti, sulle cose. Naturalmente quando il divario è così piccolo magari si cerca anche di attenuare l'effetto della sconfitta. È tutto fisiologico, capiamo tutto. Però un po' di analisi. Lei è stata in molte televisioni, soprattutto nazionali. Hanno cercato di tirarla giustamente dentro anche al dibattito nazionale. Poi sentiremo anche da un nostro osservatore qual è il ruolo che noi pensiamo che lei stia in questo momento interpretando. Ecco, è un po' un momento in cui le bocce si stanno fermando e dunque dove ha vinto le elezioni e soprattutto nel dibattito che ne ha seguito, qual è la cosa che più l'ha sorpreso o che le ha fatto più piacere? Le elezioni credo che abbiano dimostrato intanto un dato non positivo che ci sono tanti astensionisti, ci sono tante persone che hanno deciso di non votare e quindi sarà compito di questa amministrazione davvero di dare fiducia nelle istituzioni, di dare fiducia a coloro che pensano che la politica alla fine non possa incidere sulla vita delle persone o che comunque incida negativamente. Questa è veramente una cosa importante. Invece il dato positivo è che chi ha votato ha votato per il cambiamento, ha votato per avere un'interpretazione della politica che consideri veramente quelle che sono le priorità dei sardi. Noi abbiamo girato per i territori, ho fatto più di cento tappe e la cosa che emerge è che sanità, trasporti, istruzione, lavoro, sono tutte cose che sono carne viva per i sardi e questi sono temi concreti che noi dovremo assolutamente affrontare immediatamente. E credo che quello che ha colpito le persone è la capacità di ascolto sicuramente ma anche la concretezza, come ci siamo confrontati, come ci siamo confrontati rispetto a quelli che non erano chiacchiere elettorali ma problemi veri delle persone. Ecco su questo credo che si sia giocata la campagna elettorale e su questo credo che i sardi abbiano votato. Ecco su una questione tecnica si diceva che le campagne elettorali contano poco perché il peso dei partiti è importante, i presidenti alla fine si devono confermare più che altro i voti delle loro coalizioni. In qua invece sia per quel che diceva che era la tendenza dei sondaggi 20 giorni prima, anche il sondaggio a voi più favorevole diceva che c'erano forse due o tre punti di ritardo. Ne è emerso un altro di cinque giorni prima delle elezioni che diceva che questo distacco si era di molto accorciato e forse nei cinque giorni successivi è arrivato poi il colpo di reni allo sprint. Dunque significa che le campagne elettorali ancora contano e ancora forse questo tipo di impegno e questo tipo di credibilità è importante. Le chiedo prima di farle vedere una cosetta che abbiamo realizzato riguardo alla nostra non stop elettorale, c'è un dibattito nazionale in corso, certamente c'era una grande attesa da quando Giorgia Meloni è diventata presidente del consiglio non aveva mai perso un'elezione. Il fatto che abbia perso in un certo senso in casa, giocando con un suo candidato fortemente voluta da lei, ha fatto sì che questa esperienza, soprattutto la preparazione della candidata, la credibilità della candidata, ma l'esperimento del famoso campo largo che sembrava all'inizio avversato da tutti con le mille peripezie che tutti ci ricordiamo degli ultimi tre mesi ma che alla fine ha portato quella svolta che ancora non c'era stata. È davvero un punto di svolta o bisogna calmare gli animi e costruire ancora di più un'alternativa? Io credo che intanto la Sardegna non sia un laboratorio e i sardi non siano delle cavie e questo va detto in maniera forte e chiara per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Le persone hanno votato un'alternativa al cambiamento perché vogliono vedere i problemi concreti affrontati e risolti e lo vogliono nel più breve tempo possibile, vogliono veramente vedere dei segnali di cambiamento. Il nostro atto politico, il nostro impegno e la nostra amministrazione verrà valutata da questo. Poi chiaramente questo cambiamento è stato interpretato da una coalizione di centrosinistra con il Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo dimostrato che la destra non è imbattibile. Abbiamo dimostrato che l'unità, la coesione, lavorare su un progetto credibile ma soprattutto lavorare sulla ricchezza delle differenze. Questa è una cosa che ho detto spessissimo, l'ho detta in campagna elettorale e la voglio dire anche qua. Bisogna smetterla di fare la sinistra che spacca l'atomo e cerca tutti i motivi possibili per non lavorare insieme. Io credo che sia indispensabile. L'unica strada possibile sia un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e tutte le forze politiche progressiste che condividono valori e che invece sulle tematiche puntuali territoriali possono trovare ovviamente degli elementi di sintesi. Poi è chiaro che ci sono delle differenze, siamo forze politiche diverse e anche con la parte civica, la parte moderata, certamente ci sono delle diverse anche interpretazioni ma dobbiamo lavorare sull'unione, dobbiamo lavorare sul fatto di cercare di essere massa critica ovviamente credibile per poter interpretare anche un progetto politico differente. Se riusciamo a fare questo come l'abbiamo fatto in Sardegna sicuramente anche in altri contesti sicuramente diventeremo competitivi, sicuramente diventeremo credibili. Gli elettori, i cittadini, questo vogliono alla fine. Vogliono vedere un'alternativa che non è un cartello elettorale ma è un progetto credibile che traghetta gli anni di legislatura e può interpretare un cambiamento con dei valori diversi. Le faccio vedere, lo vedo io insieme a lei e insieme ai nostri telespettatori e telespettatrici, un brevissimo riassunto della nostra diretta elettorale di quelle 16 ore anche perché poi mi aiuta a fare una domanda successiva. Prego regia. 15 ore di suspense Stiamo ragionando su alcune delle considerazioni che sono state fatte prima che non si muove Ecco ci sono state veramente 16 ore lunghe. Vi voglio prima di tutto ringraziare perché la prima cosa che ho detto in conferenza stampa la mattina è che 16 ore di passione con tutta la dedizione, devo dire, della stampa e dei giornalisti è stato un atto di generosità e quindi comunque vi ringrazio per questo. Io credo che tutti davvero da tutte le postazioni si sia fatto anche un bel servizio pubblico perché i cittadini avevano gran voglia di sapere. Ma il racconto in video di quelle 16 ore mi porta a farle un'altra domanda. Il voto delle città Cagliari, Sassari, Nuoro, Quartu sono state molto nette e non sono città tendenzialmente di centro-sinistra perché in altre stagioni politiche abbiamo visto che invece il voto della città sono stati diversi. Si dice c'è un fenomeno nazionale che porta i centri più grandi a scegliere un certo tipo di politica. Io credo che invece nel voto delle città ci sia quello dell'opinione pubblica libera, non che nei paesi non si sia liberi, però ci sono forse di più i padroni delle preferenze, tra virgolette, o quelli che sono più disponibili per risolvere i problemi, che possono essere di centro-destra o di centro-sinistra, che hanno un tipo di risposta. Ecco, ci contava in un voto così netto, su Cagliari, i cantieri, vabbè, 20 punti, ma 20 punti anche a Sassari dove i cantieri non ci sono, i cantieri di Trusto non ci sono. Io credo che sia stato importante far capire che il voto di opinioni ancora esiste e che il cambiamento può essere interpretato al di là delle clientele, al di là di quello che è il vantaggio immediato che chiaramente incide purtroppo anche nei contesti più piccoli, nei contesti più periferici, io la cosa che voglio ricordare è che nei paesi più piccoli di solito quello che succede è che il bisogno si sente di più. E quindi veramente in campagna elettorale girando moltissime piccole comunità mi sono resa conto che paradossalmente è tutto pianificato, ci sono meno servizi, è molto più faticosa la vita e quindi è anche molto più semplice essere soggetti al fatto di cercare ovviamente delle scorciatoie, cercare anche banalmente delle vie di uscita per riuscire a vivere decentemente nella propria comunità. E credo che la nostra sfida sia confermare ovviamente il voto dell'opinione libera ma soprattutto occuparci delle piccole comunità perché quello che importa è restituire la libertà di vivere ovunque si voglia in maniera dignitosa anche nel posto più lontano e periferico della Sardegna. Ecco, a questo proposito abbiamo avuto diversi commentatori che ci hanno fatto compagnia per tutto il giorno, ho chiesto ad alcuni di loro di aiutarmi a farle delle domande, il mio miglior nemico Valerio Vargiù, chiamo immediatamente la regia affinché ci aiuti anche lui a darle una sollecitazione. Prego regia. Buonasera e ben trovata da Alessandra Tonde. Complimenti per il successo elettorale del 25 febbraio. C'è la sensazione che la nostra protagonista di oggi possa diventare una star, l'ho detto in più di un servizio nei telegiornali della nostra emittente, una protagonista a livello nazionale dopo l'esperienza maturata in Sardegna. Questa è una sensazione fortissima perché sono poche secondo me le donne che a livello Italia sono riuscite a conquistare tanta notorietà e tanta popolarità in tempi brevissimi. Parliamo di appena tre anni dal momento in cui Alessandra Tonde lascia il suo ruolo di capitana d'impresa per diventare numero uno in un partito come i Cinque Stelle, in assoluto il terzo partito italiano. Si vede Alessandra Tonde una protagonista del futuro nel nostro paese? È una domanda impegnativa per una che non ha nemmeno iniziato il lavoro in Sardegna, però ci sta. Ma io ho una risposta invece definitiva. Io ho scelto la Sardegna, l'ho detto in maniera chiara, l'ho detto in maniera fortissima. Io amo visceralmente questa terra, credo che si sia capito in campagna elettorale, ma se ci fossero dubbi lo voglio ribadire. Io non sono interessato a un ruolo nazionale. Mi va bene la ribalta nazionale nella misura in cui la Sardegna ne può trarre beneficio e ci possa essere visibilità e io possa essere anche ambasciatrice di questa terra che mi ha scelto per essere rappresentata. Ecco, in questo senso il tema nazionale mi va bene, ma io mi voglio occupare di Sardegna, mi voglio occupare dei problemi dei sardi e sono consapevole che per riuscire ad occuparmi bene di Sardegna, la Sardegna deve avere il suo ruolo, il suo protagonismo in Italia chiaramente, ma anche in Europa e a livello globale. E su questo sicuramente mi impegnerò, ma non ho nessuna ambizione nazionale, veramente non mi interessa. Quello che mi interessa è far bene, quello per cui sono stata chiamata, quello per cui ho avuto la fiducia e cioè veramente interpretare al meglio di essere la prima donna presidente della regione Sardegna. Su questo io mi impegnerò, non mi interessano altri passaggi e sicuramente, ecco, io voglio veramente invertire questa narrativa. Io sono una di ritorno e ho intenzione di rimanere a casa mia, al contrario di altri che magari usano le posizioni regionali anche per essere lanciati verso altri lidi. A me non interessa. Bene, una risposta mi pare chiara e definitiva. Presidente, nel prossimo blocco le farò domande più specifiche su eolico, trasporti e sanità. Lei però ha detto alcune cose e altre cose sono nell'ABC della politica. Le riforme grosse si fanno inizio legislatura. Mi è parso di capire, anche nei dibattiti che noi abbiamo tenuto in questa sede, che lei ritenga, come tutti noi, l'attuale organizzazione della regione molto, troppo datata. Forse più di 45 anni che gli assessorati sono organizzati in questo modo e tutti i tentativi di riforma sono stati piccolissimi panacee. C'è spazio davvero per un tentativo di riformare la regione già a inizio legislatura? E cos'altro ha in mente per rendere più moderne eventualmente? So che poi c'è una questione di coalizione. Non voglio certamente farle dire cose che... Assolutamente. Però, insomma, un segnale credo che vada dato. Io credo che sia importante dividere due cose. Far partire il cantiere delle riforme e dare immediatamente corpo a una giunta operativa che lavori. E sono due cose che, per come è fatta l'organizzazione, non possono andare in contemporanea. Perché quello che comporterebbe toccare la statutaria e ovviamente riuscire ad avere un'organizzazione nuova sarebbero tempi incompatibili con le risposte alle urgenze che noi abbiamo in termini proprio di governo, in termini di risposte che dobbiamo ai nostri cittadini. Quindi quello che vorrei fare è partire con quello che noi abbiamo, dare delle risposte concrete immediatamente, ma avviare un cantiere importante per avere, magari a metà legislatura, la possibilità di avere degli strumenti moderni. Faccio un esempio. Io guardavo l'organizzazione di altre regioni perché bisogna anche studiare quello che altre hanno fatto meglio. Il fatto, per esempio, di poter avere welfare e giovani all'interno di un unico assessorato, come fa l'Emilia Romagna, per esempio, è una cosa che a noi servirebbe perché le politiche giovanili che in questo momento sono annegate un po' nel lavoro, un po' nella cultura, alla fine poi si trovano a non avere voce. Così come le politiche sociali che in un contesto così complicato come la sanità si trovano sempre ad essere un po' l'ultima ruota del carro pur essendo fondamentali per la coesione sociale e ovviamente la coesione soprattutto delle piccole comunità. Quindi noi dobbiamo costruirci degli strumenti che in questo momento non ci sono per dare la possibilità a chi governerà anche dopo. Io non ho, come dire, la necessità di utilizzare io questi strumenti, ma mi piacerebbe lasciare comunque degli strumenti per una Sardegna che possa essere governata in modo moderno. Ecco, in questi giorni io ho fatto il direttore di giornale, dunque non mi stupisco chiaramente i miei colleghi di tutti e due i giornali sardi, ma anche quelli dei giornali nazionali, hanno già costituito e disfatto quattro, cinque giunte regionali. Abbiamo avuto una sessantina di nomi. Molti mi dicono, ma me l'ha detto Alessandra Tode, non me l'ha detto il PD, non me l'ha detto questo, non me l'ha detto l'altro. Ora anche qui, con i tempi, si lavora qual è la tempistica, c'è un confronto con gli alleati, quali sono i criteri, non le chiediamo nomi, ma almeno i criteri e il rapporto con la coalizione, ci può dire come verrà costituita la gente. C'è un rapporto continuo con gli alleati che credo che abbia caratterizzato questo percorso e che è veramente stata anche la forza della nostra coalizione. Si è creata fiducia, si è creata coesione, questa fiducia e coesione sono gli stessi elementi che io vorrei ovviamente utilizzare anche per avere una squadra forte, una squadra coesa che si mette immediatamente al lavoro. Allora, da una parte i tempi. Noi chiaramente stiamo facendo le nostre riflessioni perché vorremmo essere veloci nel proporre immediatamente una squadra che sia forte, competente, operativa e che si occupi davvero in concretezza di quelli che sono i problemi aperti. I criteri che abbiamo discusso sono criteri, penso, di buon senso. Io vorrei ovviamente una rappresentanza di donne all'interno della giunta, tenendo conto che però per me sono importanti anche le competenze. Le competenze non è, su questo voglio essere anche chiara, a me non interessa la giunta dei professori perché credo che, questo l'ho sperimentato proprio essendo entrata anche al governo come tecnico. A volte chi ha molte competenze tecniche non ha la capacità politica che invece è necessaria per saper mediare, per sapere comportarsi anche da un punto di vista di etichette istituzionali all'interno di contesti complessi in cui comunque alla fine bisogna trovare mediazione. E quindi la competenza che intendo è un giusto mix tra competenza tecnica e ovviamente competenza politica. L'altro tema è la rappresentanza territoriale, lo dico da nuorese, i territori devono essere rappresentati e devono essere rappresentati nel loro insieme, quindi anche su questo ci sarà sicuramente lavoro da fare. Abbiamo avuto un ritmo perfetto, siamo andati velocissimi, dunque linea alla pubblicità, è finito il primo blocco. Riparto da dove ci siamo interrotti, cioè le riforme di inizio legislatura. Me ne sono scordato una che secondo me è molto importante, della quale ho parlato negli ultimi vent'anni in tutti gli altri momenti quando ho intervistato per la prima volta il neo eletto presidente della regione, mi pare che lei sia la quarta che ho il piacere di intervistare in inizio legislatura. A tutti ho chiesto ma questa legge elettorale non vi piace, non è rappresentativa, crea problemi, mette i territori a giocare con un terno all'otto, c'è gente che con 4.500 preferenze non entra e entrano altri con 800, 900. Allora, in genere anche questo cantiere, poi soprattutto non è rappresentativa, il terzo non entra e ci sono tutta una serie di altre cose, il voto femminile, la rappresentanza femminile. Anche su questo possiamo aspettarci almeno un tentativo di legge elettorale nuova. Si è messo proprio nel programma, io vorrei essere conseguente. È una legge elettorale che dal mio punto di vista è stata studiata contro, è stata studiata per cercare di spingere ovviamente un voto di coalizione che per carità sicuramente può aiutare rispetto alla governabilità ma lascia fuori le minoranze, lascia fuori la rappresentatività. Ecco, interpreta il contrario di quello che noi abbiamo cercato di portare avanti in questa campagna elettorale, che è le differenze sono ricchezza, non sono necessariamente un qualcosa che debba essere marginalizzato perché poi alla fine è la voce più forte che deve venire fuori. Quindi a me piacerebbe mettere in cantiere anche una riforma della legge elettorale che sia sicuramente più inclusiva. Abbiamo un altro contributo. Con noi nella diretta elettorale non c'erano solo giornalisti ma c'erano anche protagonisti della nostra società e abbiamo chiesto a una sindaca che è anche imprenditrice di essere con noi, lo è stata, quel lunedì e gli abbiamo chiesto anche adesso di fare una domanda. Dunque chiedo alla regia di trasmettere la clip che riguarda Daniela Falconi. Intanto faccio i miei migliori auguri ad Alessandra Todde. Ne ha bisogno lei ma ne abbiamo bisogno soprattutto tutti noi. Sappiamo che la Sardegna è terra di grandi emergenze con problemi strutturali importanti che andranno risolti ovviamente nel tempo con lavoro e tante competenze. Però io vorrei chiedere a lei cosa metterà in campo e cosa intende fare nei suoi primi 100 giorni di governo su quattro temi che secondo me sono fondamentali. La sanità, l'istruzione, lo spopolamento e le energie rinnovabili. Sono quattro temi importantissimi. Sono quattro temi importantissimi. Allora la cosa importante è dare un segnale subito sulla sanità territoriale e soprattutto sulla gestione degli ospedali periferici che in questo momento sono stati a uso un termine preciso spolpati di competenze. Quindi bisogna ridare fiducia alle persone definendo in maniera chiara quello che è un percorso di presa in carico. Spesso quello che spaventa le persone è il fatto di non sapere cosa fare. Affollano i pronti soccorso perché li vedono come gli unici presidi possibili per poter essere curati. E quindi è importante ridare all'interno dei territori, anche quelli più periferici, dei segnali in cui i percorsi di presa in carico debbano essere chiari, debbano essere definiti e poi pian piano veramente ricostruire la sanità territoriale. Per quanto riguarda l'istruzione, quello che credo sia indispensabile è mettersi da subito a lavorare su una nuova legge quadro sull'istruzione che da una parte ridisegni quella che è la nostra necessità di istruzione. Non possiamo pensare che l'istruzione non arrivi in maniera capillare fino all'ultima, più piccola delle nostre piccole comunità. E dobbiamo finalmente avere un modello che parta da noi e non prenderci dei parametri nazionali che ci avviliscono perché sono pensati ovviamente a dei contesti che sono completamente diversi. E quindi abbiamo parlato di rete delle piccole scuole, abbiamo parlato di rappresentanza diversa all'interno dei territori. Sicuramente io vedrò se ci sono i termini e le modalità per opporsi da subito e per poter impugnare quello che è questo orrendo dimensionamento scolastico che ha visto ancora una volta penalizzata quella che è il diritto all'istruzione. Una delle cose su cui voglio intervenire immediatamente è questa gestione dell'ERSU che fa in modo che le borse di studio dei ragazzi vengono pagate anche dopo sette mesi. Siamo di fatto a marzo, non c'è ancora traccia rispetto a un anno accademico che è iniziato a novembre. E allora anche questo bisogna veramente urla vendetta. Un ragazzo che non ha mezzi deve potersi iscrivere a novembre sapendo di poter contare su aiuto economico, altrimenti stiamo dicendo che quello è un ascensore sociale che non funzionerà più. Per quanto riguarda invece lo spopolamento è importante immediatamente riuscire ad avere dei segnali forti rispetto a quelli che sono i nostri volani economici territoriali, l'agricoltura, l'allevamento, l'economia del territorio, le filiere agroalimentari, tutto quello che può ovviamente spingere l'economia locale. Io credo molto nel progetto dell'Einstein Telescope e sarà mia cura veramente investirci del tempo e delle competenze immediatamente per trasformarlo ovviamente in un ambito trainante anche per l'economia del centro Sardegna. E per quanto riguarda invece l'energia io ho detto una cosa molto chiara e la voglio ribadire anche in questa sede che ambiente e paesaggio sono beni non negoziabili per la Sardegna, sono i nostri beni primari e quindi la cosa più importante di cui io mi voglio occupare è dare delle regole a questo far west di speculazione che si è creato e quindi mappa delle aree idone sarà il mantra delle prime settimane di governo. Ecco, ho sentito una cosa importante quando lei ha detto la sensibilità nei confronti delle piccole realtà della sanità territoriale. Io credo che poi per quanto riguarda la speranza delle persone, anche la percezione, avere anche segnali concreti e immediati possono essere decisivi anche per poter poi lavorare a questioni più strutturali, anche perché immagino come lei aveva detto in campagna elettorale non ci sarà una contro 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 riforma, ci sarà un sistemare. Noi la cosa che abbiamo detto è che non avremmo agito con una riforma perché le riforme esattamente così come le riforme di cui abbiamo parlato prima hanno bisogno di tempi che non sono compatibili con il bisogno delle persone. Io voglio ricordare che il 16% dei sardi non si cura perché non ha i soldi per poterlo fare. Io ho parlato con persone che è una mamma che mi ha detto che si deve fare 150 chilometri per fare una visita pediatrica per il proprio figlio e quindi i miei segnali saranno presi in carico nei territori e soprattutto un occhio di riguardo immediatamente per tutto ciò che è pediatria. Io non posso sopportare da donna che noi non curiamo i nostri figli. Non voglio fare demagogia. Io sono consapevole del fatto che chiaramente ci affideremo per quello che è importante, per quelle che sono specialità in cui altri ospedali anche in continente sono delle eccellenze anche a questi ospedali, ma non è possibile essere rinunciatari rispetto alla pediatria, rispetto a tutto quello che comporta curare i nostri figli in Sardegna. È molto chiaro, mi pare che sia limpido anche il percorso iniziale, poi naturalmente tutto verrà giudicato per step, ma come dicevo i segnali iniziali forse possono portare a creare un clima che accetta anche o di più il cantiere in corso per rivedere le cose. Tra le domande che ha fatto Daniela Falconi c'è praticamente tutto quello che serve forse nei primi cento giorni, è rimasto fuori un argomento che è stato molto discusso in campagna elettorale e che comunque è anche questo molto percepito dai sardi come un limite. Lei stessa neanche due o tre giorni prima delle elezioni ne ha parlato con grande nettezza, in quell'occasione in riferimento ai giovani, agli studenti, ma poi riguarda tutti noi i trasporti, cioè la continuità territoriale vera e anche per il sostegno al turismo il pensare a trasporti da e per la Sardegna per tutto l'anno, non solo per i tre mesi estivi. Noi abbiamo due cose da fare velocemente, intanto ripensare il nuovo bando per la continuità territoriale partendo proprio dal presupposto che noi dobbiamo ovviamente tutelare i sardi che viaggiano, dobbiamo pensare a una cosa che non è mai stata fatta nel passato e quindi quelli che io considero i cosiddetti aiuti sociali per cui la commissione deroga che sono per esempio applicabili agli studenti fuori sede e io proprio per fare un esempio concreto ho immaginato che uno studente che studia a Milano, a Roma, a Bologna, possa viaggiare e andare e tornare dalla Sardegna come un treno con poche decine di euro. Credo che il legame con la propria famiglia, con i propri amici, anche con le comunità sarebbe estremamente diverso. Noi dobbiamo fare qualcosa di dirompente per evitare che ci sia non soltanto uno spopolamento legato all'anzianità dei nostri abitanti, ma anche per mantenere una comunità giovane che invece si deve impegnare per la propria terra. E chiaramente quindi bando per la continuità territoriale e ovviamente investimenti per le infrastrutture interne che devono essere riviste e quindi un piano per le infrastrutture che deve essere rinegoziato con RFI e con ANAS che rimetta la Sardegna al centro da questo punto di vista. Io sono onorese e ribadisco, non è tollerabile che per esempio Nuro non abbia un treno. È chiarissimo. Per completare questa cosa non so se posso chiedere alla regia di anticipare una domanda che invece viene fatta da Ivan Paone, un altro collega giornalista che era con noi durante la diretta e che alle 10.20 di lunedì aveva preconizzato, vedendo le prime sezioni di Cagliari, vince Alessandra Todi e poi è stato un tormentone per tutto il giorno in studio che naturalmente ha fatto forse piacere anche ai nostri telespettatori. La domanda di Ivan Paone, prego regia. Presidente, fra le tante emergenze che riguardano la Sardegna c'è anche quella delle strade. Mi riferisco in particolare alla 131, costellata da numerosi cantieri, almeno due dei quali, quello di Bonorva e quello delle gallerie all'ingresso di Sassari, aperti da 10 forse 15 anni. Cosa può fare la regione per risolvere questo problema? Intanto quello che può fare è convocare ANAS e rivedere quello che è il contratto di servizio. Una delle cose che questa giunta sicuramente non ha fatto è essere conseguente rispetto all'attuazione. I cantieri vanno controllati. Io cito sempre un episodio, io ho avuto la possibilità di potermi confrontare con un'associazione di ragazzi che hanno messo al centro della loro attività la modifica di una curva sulla 129, una curva nella quale avevano perso la vita due loro amici, molto giovani, appena sopra i 20 anni. E coloro in pochi anni sono riusciti a fare in modo che sia stato fatto lo studio di fattibilità, stanziare i soldi del progetto, far iniziare il progetto, far lavorare ANAS e il progetto adesso è quasi terminato. Quindi io dico sempre che se ce l'ha fatta un'associazione di ragazzi non si capisce perché non riesca la politica ad essere conseguente. Io credo che soprattutto nei rapporti con RFI e ANAS deve cambiare la musica. Bisogna fare in modo che quando si fanno degli accordi di programma vengano rispettati nei tempi, che i cantieri vadano avanti con dei segnali concreti e soprattutto che ci siano dei contesti sia all'interno della regione sia all'interno di queste aziende che siano responsivi rispetto all'avanzamento. È molto chiaro anche questo. Negli ultimi decenni, forse da 15 anni a questa parte, il presidente della regione Sardegna, parlo sempre di trasporti e del tema, è stato nominato commissario straordinario per un'infinità di cose. Una volta era stato per i lavori pubblici, per il rifacimento delle reti idriche nei paesi, poi è successo per la 131, non pervenuti, per la Maddalena post G8, non pervenuti. Ora non so se sia proprio il sistema o l'inerzia di chi via via ha interpretato questo ruolo. Su questo si è fatta un'idea o è preoccupata o creerà strutture di missione? Immagino che è ancora molto presto per arrivare, però forse un'idea se l'è già fatta. Io proprio in questo caso ragiono da donna d'azienda, senza una buona organizzazione con dei punti di controllo e delle dinamiche di controllo le cose non avanzano. È proprio quello che per me ha fatto la differenza quando ero al Mise, dove sono entrata avendo 149 tavoli di crisi e sono uscita avendone 70. Ed è successo non perché io sia brava, è successo perché c'è stato un metodo e ho controllato passo per passo che le cose funzionassero. E la stessa cosa deve accadere anche per le cose che hanno necessità di struttura, di organizzazione, ma anche di avere un avanzamento che possa essere comunicato a chi ne è interessato direttamente. E quindi la cosa importante è che quando uno viene nominato commissario di qualcosa si deve dotare di organizzazione, non è semplicemente un titolo onodifico. E quindi a me fa piacere per esempio che sia in questo momento per esempio per le bonifiche della Maddalena subentrato il prefetto Tronca perché la considero una persona di valore, non vedo l'ora di cominciare a veramente interloquire con lui per riuscire ad avere un piano strategico per poter far avanzare quel cantiere che veramente urla vendetta anche rispetto al territorio in cui è. Ma per esempio uno dei miei primi atti sarà chiedere al governo di rimettere immediatamente i milioni di euro che ha tagliato rispetto all'ultima finanziaria sulla messa in sicurezza della 131. Perché quella è una cosa che non è stata tollerabile e che da una parte si promettevano miliardi per infrastrutture e dall'altra nei piccoli gesti si toglievano le risorse alle nostre strade. Anche questo mi sembra una risposta molto netta e molto chiara. Mi collego a quanto ho chiesto sulle questioni legate allo spopolamento. Lei l'ha già inserito questo tema che le sto per chiedere in diverse delle risposte alle domande che le ho già fatto. Il rapporto con i territori. Ora è chiaro, quando si è al governo, si deve governare una coalizione, i rapporti col Consiglio, i tagliandi con gli assessorati, gli appuntamenti nazionali che ci saranno, vertice Stato, Regioni. È difficile naturalmente per un Presidente, per una Presidente, avere anche un rapporto di quotidianità o quantomeno un appuntamento settimanale in cui si è sui territori. Però io credo che in questo clima di grande novità, in questo clima di principi tutto sommato innovativi che vengono declinati a inizio legislatura dopo averli detti in campagna elettorale, evidentemente c'è la consapevolezza di poter dare seguito a quanto detto. Come li ha pensati i rapporti con i territori? Intanto dal punto di vista proprio di strumento, rimettendo immediatamente mano a quella che è la cinghia di trasmissione tra Regione ed enti locali, enti intermedi, Provincia, Unione dei Comuni. Non è possibile che questi enti siano privi di strumenti, privi di portafoglio e privi di responsabilità, quando invece noi ci aspettiamo che, fatta la programmazione, questa programmazione poi arrivi sui territori in maniera capillare. Quindi rimettere mano a un meccanismo che funzioni, penso che sia assolutamente indispensabile e necessario per fare in modo che veramente i territori abbiano risorse, strumenti e professionalità per poter progettare e programmare insieme alla Regione. E per quanto mi riguarda io mi sono posta invece un obiettivo personale, quello di avere in agenda una visita o l'apertura comunque del Consiglio e dei luoghi della Presidente alle scuole di tutti i territori. Mi piacerebbe veramente che in questi anni di legislatura i ragazzi, partendo proprio anche dalle scuole elementari, di tutte le età, capissero che le istituzioni e che la loro Presidente è una persona come loro e che anche loro sono protagonisti di questa trasformazione. Quindi mi piacerebbe coinvolgerli, mi piacerebbe fare in modo che ci possano essere visite reciproche e che anche le piccole comunità si possano sentire protagoniste della vita politica regionale. Ecco, lei ha parlato della catena, la cinghia di trasmissione, secondo me è un'espressione che rende bene tra Regione ed enti locali e nel mezzo, ci sono tutta una serie di altre istituzioni. Una delle cose più travagliate negli ultimi cinque anni e tutte le volte che questa giunta regionale o il Consiglio ha messo mano a una riforma degli enti locali, il governo, sia che fosse neutrale, tra virgolette avversario o amico, l'ha sempre bocciata. Non lo so se avete già parlato di una possibile nuova riforma, di un nuovo possibile ordine, ma lei che idea si è fatta? Soprattutto ha parlato anche di province, di città metropolitane, come lo possiamo immaginare questo ruolo in futuro? Ripeto, non stiamo decidendo quello che si farà adesso, ma un atto di indirizzo. La cosa importante è che siano dei contesti che possano essere efficaci. In questo momento, per motivi ovviamente legati proprio al percorso che è stato seguito, sono nel limbo. Quindi esistono, ma non hanno la pienezza degli strumenti che servirebbero per governare. E quindi da questo punto di vista bisognerà intanto renderli elettivi, perché ovviamente è importante che lo siano e che quindi queste elezioni di secondo livello vengano messe in pratica anche nel nostro contesto. E poi appunto dotarli di strumenti che possano veramente fare in modo che quelle responsabilità che sono sovracomunali e quegli atti di programmazione che sono sovracomunali possano finalmente veder luce all'interno dei territori. E credo che sia importante anche per dare un segnale ai territori da una parte di presa di responsabilità. Anche loro devono avere visione, si devono programmare e devono progettare insieme alla regione, ma allo stesso tempo dotarli di risorse per poterlo fare. Bene, ci fermiamo nuovamente, linea alla pubblicità. Eccoci qua, dunque abbiamo declinato fin qui quelli che sono gli intendimenti che insomma poi ricalcano quelli che sono stati gli argomenti di successo in campagna elettorale. Io tendenzialmente all'inizio della legislatura ho un'apertura di credito in chiunque governi. Mi piace che si dicano delle cose, si dice cosa si fa. Poi però c'è anche la praticità e voglio un po', non dico provocarla, ma portarla anche sul tema della praticità. Perché è chiaro, lei ha detto, siamo in luna di miele, quando siamo partiti nessuno pensava non solo che potessimo vincere ma che potessimo arrivare uniti alla meta. Invece siamo arrivati uniti, abbiamo vinto e siamo pronti a governare, andiamo d'accordo. Però nella praticità di tutti i giorni ci sono i rapporti con una coalizione di governo, poi ci sono i rapporti con l'opposizione e col Consiglio, dove abbiamo visto da quando c'è l'elezione diretta un mezzo disastro per tutti, destra e sinistra, e poi ci sono naturalmente i rapporti col governo nazionale. Adesso ce n'è uno di centro-destra, ma la legislatura regionale dura cinque anni più di quella del Parlamento, ce ne potrà essere qualunque altro e anche qui ci sarà una quotidianità. Partiamo con la coalizione. Si è già fatta l'idea che potrebbero esserci dei momenti in cui magari si discute anche come si fa nelle migliori famiglie. Io sono abituata ad un contesto aziendale dove si deve discutere. La cosa peggiore è scoprire che ci sono i problemi quando i problemi sono conclamati o scoprire che ci sono delle difficoltà di relazione o delle difficoltà di aspettative nella misura in cui queste difficoltà hanno già superato un livello di guardia che poi è difficile da gestire. Quindi io credo che la discussione, il confronto siano il sale della collaborazione, se ne sale anche della squadra, una squadra si cementa nella misura anche in cui i progetti, in cui le strategie vengono stressate. E quindi io, essendo cresciuta in quello che gli americani chiamano il thoughtful disagreement, mi aspetto che ci sia dialettica, mi aspetto che ci sia contrapposizione e mi aspetto che ci sia una discussione seria e profonda rispetto anche a quelle che sono anche diverse vedute. Siamo forze politiche diverse e proprio il fatto che questa diversità si è entrata nella coalizione è qualcosa che io vorrei mantenere perché le forze politiche si devono sentire comode all'interno di questo ruolo di governo. Chiaramente io avrò il compito di fare sintesi e quindi lo farò ovviamente cercando di essere di equilibrio rispetto alle varie istanze che saranno portate, ma anche avendo come fare l'incisività. Io credo davvero che il motivo per cui i sardi hanno voluto il cambiamento e che l'inerzia dei cinque anni che abbiamo passato sia stata una cosa anche avvilente, che ha tolto la speranza a molte persone. E quindi credo che l'aspettativa dei sardi sia invece il motore più importante e quella sicuramente è l'unica cosa che non dobbiamo deludere. Quindi la sintesi sarà proprio volta al fatto di mantenere l'incisività, la concretezza, il fatto di volere portare a casa dei risultati non per consenso o demagogia, ma veramente perché possono servire per cambiare in meglio la vita delle persone e debba essere il nostro faro. Quindi chiaramente non sarà facile, lo so, però voglio dire ho anche una lunga storia professionale alle spalle che mi insegna come fare. E anche un'esperienza di governo, in due diversi governi qui non tutto erano rose e fiori. Quello che voglio ricordare è che durante il governo Draghi il mio ministro era Giorgetti, quindi devo dire che riuscire a mediare non è stato facile, però alla fine sicuramente il lavoro che è stato fatto è stato comunque un lavoro dignitoso. Giorgetti è fra quelli che l'ha chiamata? Sì, mi ha scritto un bellissimo messaggio e gli ho risposto con altrettanta gentilezza. Noi ci siamo contrapposti molto durante il governo Draghi perché avevamo ovviamente delle posizioni che erano molto distanti dal punto di vista politico, però si è comportato come una persona corretta e io lo ringrazio. Bene, dicevamo poi ci saranno i rapporti con il Consiglio regionale, con tutto il Consiglio regionale, maggioranza di opposizione e naturalmente anche i rapporti con le opposizioni. Credo che anche dalla nettezza con la quale questo rapporto inizierà, al di là della campagna elettorale, perché poi sappiamo che in campagna elettorale ognuno fa la sua parte, c'è la normale durezza, c'è la contrapposizione, lei stessa ha detto anche all'interno di un ministero con due forze politiche diverse, la pensavamo diversamente, poi si trovava la sintesi, ecco con l'opposizione non si trova la sintesi sull'attività di governo, magari si potrà trovare sulle questioni delle riforme, magari se vorrà dice qualcosa anche su questo, ecco ma a quale principio saranno improntati anche nei momenti di maggiore asprezza i rapporti con l'opposizione, col Consiglio, anche tra giunta il Consiglio da quando c'è stata questa riforma c'è stata fin qui poca collaborazione. Io credo che dobbiamo distinguere tra quelle che sono le scelte politiche che chiaramente ci vedranno distanti rispetto anche magari alle ricette che proporremo, rispetto invece a quelli che sono i grandi progetti trasformazionali della Sardegna, ne faccio un esempio per tutti sull'Einstein Telescope non esistono divisioni politiche, esiste un progetto da portare a casa esiste un contesto che deve valorizzare soprattutto l'interno, esistono delle infrastrutture, un progetto abilitante per fare in modo che non sia semplicemente un'occasione spot di avere una comunità scientifica che si insedia al centro della Sardegna ma che possa essere veramente un volano di un'economia a duratura. Ecco, su questo non credo che possano essere ammesse divisioni e un progetto per la Sardegna deve essere portato avanti da tutte le forze politiche. Lo dico anche sorridendo perché è un po' anche quello che ha improntato nel passato questo tipo di collaborazione. L'emendamento che è stato presentato in Senato per esempio dalla Lega, quello che ha fatto in modo che quel campo eolico che minacciava il progetto sia stato messo via, è un progetto che è stato scritto, è un emendamento che è stato scritto da me, presentato da noi, ma poi è stato ripresentato dalla Lega in Senato ed è passato come emendamento della Lega. È a dimostrazione che tutti i parlamentari sardi in questo tema si sono uniti. Quindi io credo che in questi temi trasformativi ovviamente le contraposizioni debbano essere lasciate da parte. Noi abbiamo una bicamerale che è dedicata all'insularità e lì sarà veramente un ulteriore strumento per fare in modo che l'isola possa avere riconoscimento economico, possa avere strumenti, possa avere anche un rapporto col governo che la veda recuperare il gap che sicuramente è il divario che in questi anni si è creato. Quindi strumenti per portare avanti un confronto anche con l'opposizione ne abbiamo sia a livello del Consiglio, dove ci deve essere un rapporto di contrapposizione ma anche di leare collaborazione rispetto a quello che è il bene della Sardegna e ovviamente anche un contesto nazionale dove noi comunque dobbiamo far sentire la nostra voce. Lei ha parlato prima di cantiere delle riforme, cantiere sulla riforma della Regione, cantiere sulla riforma elettorale. Ha detto anche, non lo so se lo potrò utilizzare io o se potrà essere utilizzato in questa legislatura il nuovo modello che tutti insieme sceglieremo, anche quella forse può essere una palestra di dialogo per riforme condivise che eventualmente poi possono essere utilizzate da tutti in una logica di eventuale alternanza. Il fatto di non essere condannati ai silos, ai dodici assessorati che in questo momento governano la Sardegna, che sono anacronistici per come si è evoluto il mondo, per quello che deve essere affrontato è un dato di fatto. Penso per esempio al fatto che noi abbiamo posto all'interno del programma una legge di governo del territorio. Per fare una legge di governo del territorio bisogna mettere a fattor comune i diversi temi, l'ambiente, l'energia, la gestione dei rifiuti, l'urbanistica, il paesaggio. Sono tutti temi che chiaramente devono essere definiti in termini di linee guida e che chiaramente sono interassessoriali e che poi devono vedere la voce in un nuovo piano urbanistico, nella modifica della legge paesaggistica per essere armonizzata rispetto alle aree interne, rispetto a uno sviluppo che deve essere ripensato anche sulla base di queste regole. Ecco, il fatto di non poter ragionare con la possibilità per chi si insedia di ragionare con il mondo attuale, ma con un mondo che è stato pensato decine e decine di anni fa, credo che possa essere un problema. Quindi questi strumenti non saranno utili semplicemente per noi che li stiamo pensando, ma devono essere pensati insieme per chi governerà dopo. Quello che lei ha detto nella risposta sull'Einstein Telescope mi riallaccia a uno degli argomenti che in sede di analisi con altri colleghi ci siamo detti, dove indubitabilmente la Presidente Todd ha una marcia in più e ha avuto una marcia in più sulla credibilità legata alle nuove tecnologie, alla sfida sulla modernità, anche alla preparazione su quello che serve o su quello che il sistema delle imprese può dare o si può aspettare da un'istituzione pubblica in un tema di collaborazione per una crescita socio-economica che poi riguarda tutti. Le istituzioni fanno il loro lavoro, le imprese ne fanno un altro, ma quando collaborano poi mettono a sistema un qualcosa che può... Ha citato alcuni esempi che riguardano l'isola, è anche una piattaforma tecnologica che in passato è stata molto innovativa. Qua sono nate esperienze che ancora resistono, nonostante per 25 anni non ci sia quasi più investito. Io voglio approfittarne per ricordare un evento straordinario che ha caratterizzato la Sardegna l'anno scorso, che è l'arrivo di un'infrastruttura che mette la Sardegna alla stessa stregua della Silicon Valley in termini di connettività. Ed è un braccio di una dorsale gigantesca che partendo dal largo di Israele arriva fino a Genova e che è una dorsale di quattro cavi da un terabyte l'uno, il cui braccio appunto è arrivato a Golf Aranci. Questo ovviamente è un motivo di interesse importante per quelle che sono le grandi aziende tecnologiche e ovviamente con un buon contorno di sanità, con un buon contorno di istruzione, con un buon contorno di mobilità, noi possiamo convincere anche degli investimenti delle aziende ovviamente tecnologiche a fare degli investimenti importanti utilizzando questa tecnologia, perché di contro la Sardegna è un buon posto, è un buon cantiere dove vivere, dove poter sviluppare. Quindi mettere per esempio questo tipo di infrastruttura, fattore comune con quello che accadrà per l'ansia in telescopio può essere un motore per riaccendere anche un'economia tecnologica di innovazione che può essere veramente un fattore importante di sviluppo per la Sardegna. Un'altra cosa importante è utilizzare questa infrastruttura anche per il tema regionale e io su questo veramente ho intenzione di fare la differenza. È importante modernizzare quella che è la macchina regionale dal punto di vista tecnologico. Molta della burocrazia che noi ereditiamo è proprio legata al fatto che si utilizzano, ecco lo spoglio credo che sia stato un esempio veramente da non ripetere per il futuro. Io credo che sia molto importante dotare la macchina regionale di strumenti moderni, di strumenti che possano essere del 2024 e non dell'anteguerra e fare in modo che effettivamente questa spinta anche per la modernizzazione possa essere utilizzata per semplificare i processi. La tecnologia ha un grandissimo vantaggio che toglie la discrezionalità, i processi sono ripetibili e sono trasparenti, quindi su questo credo che ci sia molto da fare. Lei ha detto già prima che si sente in questo momento la Presidente della Sardegna, qua è la sua prospettiva, qua è il suo orizzonte, però bisogna avere rapporti anche col governo. In questo momento abbiamo aspettato per tanto tempo, abbiamo due donne dalla forte personalità, fortissima personalità, una che guida il governo della Repubblica e una che guida un'istituzione importante, una regione a statuto autonomo come la Sardegna. Al di là della contrapposizione personale o del rapporto personale c'è naturalmente anche un rapporto di Stato-Regione. Io, essendo meno occupato per una ricerca storica ai tempi di Mario Melis, la giunta autonomista, che aveva un fortissimo ruolo, non dico di contrapposizione, ma diceva io ho un ruolo che la Costituzione mi assegna e che tu devi rispettare. Non pretendiamo repliche o non pretendiamo... Però ecco, da questo punto di vista ci sarà la stampa che cercherà di trascinarla sul confronto politico con la Meloni di contrapposizione, poi ci sarà un rapporto istituzionale da costruire. Io posso ripetere quello che ho detto a lei quando mi ha chiamato per congratularsi, che io so ben distinguere la contrapposizione politica dal ruolo istituzionale. Il ruolo istituzionale che io in questo momento mi impone di portare a casa ogni risultato, dal più piccolo al più grande per la Sardegna. Questo abbraccia a tutto tondo quelli che sono i temi di contrapposizione che in questi anni ci hanno visto stare indietro. Penso per esempio alle risorse fiscali, penso per esempio al fatto di dover ridiscutere il tema del costo dell'energia. Io ho detto molto chiaramente che intendo fare una società energetica regionale, guardando anche altri modelli come per esempio quello del Trentino, proprio perché ritengo che sia indispensabile che la Sardegna cominci a gestirsi le risorse anche in maniera legata a quelli che sono gli interessi propri. Andrà rinegoziato il tema dei servizi militari. È stato intollerabile il fatto di aver avuto un presidente che non si è mai presentato in paritetica. Quindi su queste cose bisognerà essere presenti e soprattutto intendo farmi sentire in maniera forte nel rapporto con la commissione bicamerale in solarità. Perché lì è il luogo dove si decidono quelli che sono gli strumenti, dove si decidono quelle che sono le risorse e io ho intenzione a tutto tondo di far valere quella che è la posizione della Sardegna. Ci fermiamo un attimo, poi un ultimissimo velocissimo blocco. Linea alla regia. Eccoci, eccoci di nuovo in studio. Domani la presidente Todd sarà in Abruzzo, le tocca se c'è un'altra elezione regionale. Ricordo che cinque anni fa anche il presidente eletto Solinas andò a sostenere Marsilio in quell'occasione. Dunque è normale che ci sia comunque un tentativo di proseguire quell'esperienza. Mi pare di capire che rispetto a quella campagna elettorale da come fosse partita, adesso D'Amico, l'ex rettore. D'Amico abbia la percezione di poter fare anche lui una rimonta e un arrivo allo sprint che possa portare qualche sorpresa. Intanto io la cosa che voglio ricordare è che ho sempre fatto campagne elettorali per la coalizione. Questo è una cosa che mi fa piacere. Per esempio ho sostenuto Maiorino quando è stato candidato, anche portato dal Movimento 5 Stelle. Maiorino era eurodeputato del Partito Democratico per la Lombardia. Quindi a me fa piacere sostenere le iniziative di coalizione perché credo che nei territori, così come anche a livello nazionale, sia importante una collaborazione tra le forze politiche per governare. Quindi andrò felicemente in Abruzzo a sostenere D'Amico. Tra l'altro ne ho una stima grandissima, sia ovviamente legata proprio al suo passato. È stato rettore ed è comunque una persona solida. E quindi sono felice di poter fare campagna con lui. E poi sono contenta di poter raccontare anche in Abruzzo il fatto che prendersi cura, come sta facendo lui, dei problemi delle persone, andare a parlare con le persone nei territori, andare a parlare di cambiamento rispetto a un presidente che fa smart working da Roma. Credo che sia importante per poter anche far capire che un'alternativa è possibile. Io sarò contenta di dare la mia testimonianza. Ottimo. Domani dunque in Abruzzo. Sentiamo un attimo. C'è un'altra domanda che viene fatta da un nostro collega giornalista che con noi ha commentato la lunga giornata elettorale, post elettorale, scusate, Augusto Dittel da Olbia. Prego, regia. Buonasera Presidente. La domanda è questa. C'è stato un momento in cui, mi dicono fonti ben informate, solitamente ben informate e vicine anche al PD, c'è stato un momento in cui, forse un minuto, dieci minuti, non so quanto, in cui lei e qualche altro dirigente ha avuto un po' di paura che veramente ci fosse il ribaltone tanto spiegato dal centro-destra. Poi la cosa è stata superata con il supporto dei numeri e delle leggi in vigore. Volevo sapere, la curiosità era questa, dopo questo piccolo spavento, diciamo, che cosa rifarebbe con maggiore determinazione in questa campagna elettorale e che cosa soprattutto non rifarebbe. Se poi mi è consentita una piccola curiosità, non ho letto da nessuna parte, se Renato Soru, come ha fatto subito dopo la sua elezione Paolo Truzzo, la chiamata si è complimentata per la vittoria oppure no. Forse la cosa è stata scritta, a me è sfuggita. Vorrei che questa curiosità venisse soddisfatta. Grazie e buon lavoro. Queste sono tre domande in una, però. Allora, relativamente alla prima, io in realtà ho vissuto lo spoglio con molta serenità, quindi sicuramente ci sarà stata agitazione magari nelle sedi elettorali. Io proprio ho deciso di passare quella giornata con i miei amici, con la mia famiglia, l'ho proprio passata serenamente con i nipoti e devo dire che noi avevamo proiettato i numeri correttamente nella misura in cui, anche quando all'inizio dello spoglio avevamo un divario molto grande, proprio questa proiezione ci diceva che comunque lo scarto sarebbe stato di poco. Noi addirittura avevamo proiettato di circa 2000 voti e quindi non ci siamo andati molto lontano. Quindi questa consapevolezza io l'ho avuta in maniera forte proprio anche durante lo spoglio. Certamente il fatto di essere al filo lo sapevamo, ce lo dicevano tutti, ce lo dicevano i sondaggi che avevamo e quindi sapevo che sarebbe stata ovviamente un contesto molto combattuto. Io mi sono sentita serena nella misura in cui ho ritenuto di aver fatto il mio dovere fino in fondo e di averci veramente messo speso ogni stilla di energia. Quindi non avevo niente da rimpiangermi e credo che comunque aver portato a casa competitività rispetto a una situazione che sembrava disperata perché chiaramente con un altro candidato nel proprio campo rispetto a un centrodestra forte in AIP che comunque è la Presidente del Consiglio e ancora a forza che traina sembrava veramente un'impresa di quelle improbabili. Ecco mi è venuta in mente la storia dell'invenzibile armada che poi alla fine le tempeste riescono anche a fermare quella che sembra l'armata più invincibile. Forse vi ha dato più coesioni, tutte quelle cose che sono successe all'inizio tra Soru, progressisti, forse vi ha quel nucleo iniziale. Io ho avuto l'impressione che in quei giorni siate diventati molto più coesi e si siano cementati il gruppo dirigente del PD regionale e tutto il resto molto di più sulla sua persona. Ma quella è una cosa che ho visto anch'io e lo confermo. La difficoltà proprio del fatto di essere sul filo ha cementato i rapporti, ha cementato la discussione, ha cementato anche la condivisione e infatti devo dire che per esempio il fatto di alla fine uscire a luna di notte con la rivendicazione della vittoria è stata una cosa scelta confrontando i numeri che avevamo noi, i numeri che aveva il PD che prendendo una decisione insieme. Per quanto riguarda invece la domanda che è relativa al tema se solo mi ha chiamato meno, non mi ha chiamato. L'ho sentito subito dopo l'interlocuzione con i giornalisti per fare una dichiarazione dopo che era evidente che l'andamento stesse andando nella mia direzione dire pubblicamente che mi augurava buon lavoro ma non mi ha chiamato personalmente. Diceva anche il collega che c'è qualcosa che non rifarebbe di quella campagna elettorale anche se se tutto sembra essere andato bene? Io credo che col senno del poi ovviamente le analisi non sono mai buone, le decisioni vengono prese sulla base delle informazioni che si hanno al momento, quindi ritengo di veramente aver fatto la migliore campagna possibile con i mezzi, le modalità e le informazioni che avevo in quel momento. Ecco, un'altra questione che secondo me è importante che potrebbe essere una piccola pietra di inciampo ma alla quale sono sicuro abbiate già pensato, adesso si vota per Cagliari, per Sassari, per centri molto importanti. I precedenti presidenti di regione hanno cercato un po' di fare anche i leader della coalizione, insomma di mettere a posto tutto. Potrebbe essere anche una trappola questa, cercare di mettersi in mezzo per dire no, i criteri sono questi, il candidato è l'altro, primarie sì, primarie no. Lei cosa ha deciso di fare rispetto alla discussione che è in corso? Anche perché se anche non glielo chiedessi lo vedremmo comunque entro pochi giorni, perché si vota fra due mesi, fra tre mesi dovrà decidere lì la data delle elezioni, ma non sarà lontano tra fine maggio, inizio giugno, perché quella è la finestra. Credo che la cosa importante sia mantenere l'unità della coalizione. Noi abbiamo dimostrato durante questa campagna elettorale che una coalizione allargata è vincente, è quella che riesce veramente a fare la differenza. Quindi credo che sia importante confrontarsi sui criteri, confrontarsi sulle modalità, fare in modo che la politica possa ovviamente fare la propria parte, così come ha fatto per quanto riguarda il mio percorso, perché ha fatto la differenza, perché poi alla fine sono forze politiche che si confrontano. Io sono sicura che sia per Cagliari che per Sassari sceglieremo i migliori candidati, avremo un'alternativa fortissima per riuscire a portare avanti quest'onda, che speriamo che sia un'onda a duratura di cambiamento. Abbiamo quasi finito. L'ultimo contributo esterno di un altro dei commentatori della giornata postelezioni, Giancarlo Ghirra, che le chiede una cosa sulla quale lei ha già parzialmente risposto e poi una seconda che è una visione d'orizzonte che è molto affascinante. Prego Regia. Complimenti Presidente per il suo risultato, che le pone anche, diciamo, grossi pesi sulle spalle. Le volevo parlare di uno dei pesi maggiori che era Sardegna, quello delle servitumi militari. Noi abbiamo sulla nostra terra il 65% delle servitumi militari nazionali. Pensa che sia possibile un riequilibrio sulla linea di quanto fece un suo grande predecessore, Mario Meris, presidente di una giunta di sinistra e sardista, che costrinse il governo a trattare sulle servitumi, a riconoscere il ruolo della regione, a discutere con la regione la situazione, anche il trasferimento di alcune aree e la limitazione di alcune esercitazioni. E poi mi piacerebbe sapere cosa pensa di questa idea, un po' mitica forse, che però mi piace, di fare della Sardegna una piattaforma di pace nel Mediterraneo. Intorno a noi ci sono delle guerre terribili che rischiano di diventare delle guerre mondiali. Non sarebbe interessante che dalla Sardegna partisse l'idea di fare della nostra terra il luogo dove israeliani e palestinesi, ucraini e russi si incontrano per trovare una via di uscita a questa drammatica situazione. La cosa che credo che sia indispensabile, lo ridico così si capisce meglio, è che noi rinegoziamo la nostra posizione e che andiamo ai tavoli negoziali per le servitù militari pretendendo che la Sardegna abbia un ruolo sempre più forte e sempre maggiore. Su questo veramente credo che bisogna cambiare passi, bisogna cambiare rotta, partendo da una cosa che non deve accadere e che è relativa al deposito delle scorie. Io l'ho detto chiaramente, pubblicamente, quell'articolo che è stato votato sul DL Energia che dice che le basi militari si possono eleggere a contesti che possono ospitare il deposito delle scorie è una cosa che mi vedrà opposta con tutti i mezzi e con tutti gli strumenti che abbiamo. Perché il deposito ovviamente non deve arrivare in Sardegna perché noi siamo già stati, come è stato ricordato, terra di servitù e non ne vorremmo prendere delle nuove, delle diverse, sotto diverse forme, ma soprattutto perché può essere l'inizio di una rinegoziazione forte rispetto a quello che è il nostro territorio, la nostra vita e gli impatti che noi ovviamente abbiamo rispetto a servitù che comunque non sono neutre rispetto alla nostra vita. Ho un'ultima domanda, è una domanda che non dico emozione. Per quanto riguarda, perché voglio rispondere a una questione della pace, perché questo è un tema fortissimo che noi abbiamo portato all'interno del nostro programma. Io credo che rilanciare anche l'azione costruttiva della Sardegna su temi nazionali e internazionali sia fondamentale e la Sardegna deve essere promotrice di un contesto in cui la negoziazione sia primaria e quindi ben venga anche l'idea, la suggestione di poterci vedere come piattaforma di pace. Credo che sia assolutamente in linea rispetto a quella che deve essere la nostra visione politica. Ecco, dicevo un'ultima domanda emozionale. Sono stato molto colpito, lo dico, non è facile, per un giornalista che fa da tanti anni questo lavoro e ne sente tante, è normale, però questa cosa della prima presidente donna, del sentirsi fortemente come persona, come sarda, come donna, come politico, che finalmente una donna anche in Sardegna possa essere appellata presidente, cioè possa essere quella che guida dopo 75 anni. È stato successo a livello nazionale con Giorgia Meloni, al di là del fatto che siate su piattaforme politiche contrapposte, è comunque un grosso cambiamento dal punto di vista dell'Italia che arriva buona ultima, forse, nell'Occidente a queste novità importanti. Io voglio iniziare intanto ringraziando tutto il lavoro incredibile che è stato fatto dalle donne della coalizione. Le donne della coalizione, del Partito Democratico, del Movimento, dei Verdi, della Sinistra, delle forze civiche, di tutti coloro che veramente si sono spesi all'interno di questa coalizione, si sono spese tantissimo. Hanno lavorato in prima fila, erano orgogliose, presenti, felicemente supportive. E questo ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza il voto delle donne. Molte donne sono andate a votare anche in questo sentimento di poter finalmente essere volto e protagoniste del cambiamento. E credo che in un contesto conservatrice come la Sardegna, perché la Sardegna è un contesto politico conservatore, il fatto di poter essere arrivati fino in fondo con una candidatura femminile sia un segno di cambiamento importante. Sia un segno del fatto che anche in questo contesto le ragazze possano avere modelli che non hanno limiti. Questo tetto di cristallo che ci è stato posto sopra la testa è un altro risultato che noi ci stiamo portando a casa per poterci dire anche noi che forse i limiti sono nella nostra testa e non in quello che noi possiamo costruire. Chiaramente con dei presupposti solidi, io questo l'ho detto in maniera chiara, per riuscire a emergere ed affermarsi bisogna avere indipendenza economica e gli strumenti che ci portano ad essere indipendenti. e quindi su questo bisogna veramente molto lavorare. Detto da un conduttore che lavora in una televisione dove il 90% sono donne, insomma, credo che questa cosa possa davvero essere un cambiamento che può portare anche un maggiore coinvolgimento, non solo per forza per non essere una questione nei luoghi di potere, ma anche coinvolgimento proprio per interessamento alla cosa pubblica. Io ho voluto chiudere la campagna elettorale con un'immagine forte, con mia madre e con mia nipote. Mia madre, perché il motivo per cui io sono tornata in Sardegna, mia madre ha 86 anni e credo che i genitori quando invecchiano diventino figli, diventino poi con tutte le loro fragilità persone che hanno ancora molto da insegnare, molto da lasciare, ma che hanno ovviamente necessità di ricevere le nostre cure, la nostra attenzione e il nostro supporto. Invece mia nipote che vive a Milano è il motivo per cui vorrei cambiare la Sardegna, vorrei che ci fosse per lei e per tutte le ragazze che in questo momento sono magari fuori per cercare di potersi affermare un'opportunità di potersi vivere la propria isola, le proprie radici, la propria cultura realizzandosi pienamente. Grazie Presidente Alessandra Todd. Spero che ci possano essere nel corso della legislatura delle occasioni di Tagliando nel quale potremo tornare a confrontarci per vedere anche lo stato d'avanzamento e per rispondere anche ai cittadini e alle cittadine di come verrà portata avanti l'azione di governo. Ringraziando lei per la sua disponibilità, ringrazio naturalmente le telespettatrici e i telespettatori che anche stasera sono stati con noi su Tele Sardegna con Zoom. Noi torniamo giovedì prossimo ancora alle ore 21 poi con chi vorrà possiamo anche tenerci in contatto durante lo Zoom quotidiano che viene trasmesso all'interno dei nostri telegiornali. Buona serata. Grazie a tutti.